Salve, benvenuti al trucco delle carte magiche e della moneta magica vediamo, sotto la carta blu c'è una venticentesima c'è una moneta quindi sotto la carta rossa non abbiamo niente eppure passerà a fare stala BIM e la moneta praticamente sarà passata da qui da qui ma ancora non la lasciamo sotto la carta rossa e prendiamo un'altra moneta e lo mettiamo sotto la carta blu basterà dire sì dalla BIM e magicamente anche la seconda moneta è passata a qui però si sa i soldi come vengono l'anno quindi basterà di dire sì sala B e le monete logicamente sono sparite da tutti quindi da qui tu hai il 60% di sconto prima settembre che che